48 chili di marijuana divisa in 45 panetti. È il sequestro da record messo a segno dagli uomini della Guardia di Finanza e dalla Dogana al porto di Ancona. Il carico di erba era ben nascosto nel doppio fondo ricavato nel portabagagli di un'auto sbarcata da uno dei traghetti provenienti dalla Grecia. A insospettire le fiamme gialle è stato il comportamento dei due fidanzati albanesi che viaggiavano in macchina. Troppo agitati e nervosi per i finanzieri che così hanno proceduto ad un controllo minuzioso del mezzo scoprendo il prezioso carico destinato al mercato italiano. La droga venduta al dettaglio avrebbe fruttato 450 mila euro. Dopo l'arresto la ragazza di appena 20 anni è stata trasferita nel complesso penitenziario femminile a Villa Fastigia Pesaro, mentre il compagno è stato portato in carcere a Montacuto. Entrambi dovranno rispondere di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Grazie a tutti.